Ultimo giorno di zona rossa per tutta l'Italia in questo 6 gennaio 2021, così come per Rovigo. Una Befana come non si era mai vista, silenziosa ed esolata. Niente corso alla colazione nei bar del centro, solo qualche irriducibile della colazione da asporto o al negozietto di dolciumi per riempire le ultime calze. Nelle piazze della città e lungo la strada principale che attraversa il centro del capoluogo non si vede quasi nessuno. Non mancano chiaramente le pattuglie delle forze dell'ordine impegnate anche oggi a sorvegliare sul rispetto delle regole contro la diffusione del contagio. Una Befana strana, senza i tradizionali brusa veccia, i fallò della Befana che ogni anno colorano ogni zona del Polesine. Qualcuno passeggia per strada, raggiunge un bar per la colazione da asporto o l'edicola per comprare il giornale, ma è tutto il movimento che si può vedere questa mattina in piazza. Nulla di più. Una Befana che è però l'ultimo giorno di zona rossa delle feste, vigilia di un ritorno ai colori più tenui, secondo quanto deciso dal primo decreto Covid di gennaio del Governo, in vigore da domani fino al 15 gennaio. Se la giornata di oggi segue le regole anti-Covid della zona rossa, le stesse che hanno riguardato gran parte delle festività natalizie, da domani si passerà in zona gialla, con un'alternanza in arancione, per i giorni che seguiranno, quelli del weekend. Poi, fino alla definizione per l'11 gennaio, delle nuove fasce di colore e di livelli di rischio da riservare alle regioni in base all'indice RT. Chissà in che fascia finirà il Veneto. Intanto, domani e dopodomani, si torna a circolare liberamente senza autocertificazione all'interno del territorio regionale. Bar, ristoranti e negozi tornano a riaprire, anche se bar e ristoranti, solo per due giorni, per poi tornare ai limiti di spostamenti tra comuni nel weekend, ma con i negozi aperti. Grazie a tutti.